Dai campi di gara alla strada, la ricerca e sviluppo Pirelli da sempre trasferisce alle gomme stradali le esperienze maturate nelle competizioni. Ma come funziona una gomma per le monoposto? Quali caratteristica ha un pneumatico da strada? Il T0 da gara ha una maggiore espansione in larghezza, una struttura interna estremamente rigida, una spalla molto alta rispetto al pneumatico di serie, caratterizzato da battistrada scolpito e mescola dura per garantire un maggiore chilometraggio. Migliaia di chilometri per un pneumatico da strada, un centinaio per quello da competizione ma vissuti in modo emozionante ed intenso. Con superfici bagnate la capacità di drenaggio delle coperture da gara è di 60 litri al secondo. La tesseratura con interstizi larghi garantisce l'espulsione d'acqua, mescola morbida e carico aerodinamico la presa al suolo, assicurando anche alle alte velocità un'area di contatto asciutta e totale controllo di guida. Il pneumatico stradale arriva ad evacuare fino a 13 litri d'acqua al secondo, valore che pone in totale sicurezza ogni tipo di autovettura. Il pneumatico di serie sopporta stress in curva fino a 1 G, assicurando comfort e sicurezza. Il P0 da pista è invece progettato per sviluppare le massime prestazioni con velocità in curva tali da generare 4 G di accelerazione trasversale. Un valore 4 volte superiore ad una vettura di serie grazie a temperature di esercizio superficiali di 100 gradi che massimizzano la presa al suolo del battistrada. Un'aderenza superiore, espressa con differenze ancora più evidenti, avviene in fase di frenata. Una vettura da strada genera 1 G di accelerazione longitudinale, 5-1 a monoposto, che è in grado di passare da 330 all'ora a 80 in appena 3 secondi. La superaderenza di pneumatici specificamente progettati per le gare permette di sfruttare e massimizzare valori come potenza e dunque l'accelerazione. In 2 secondi e mezzo una vettura di serie raggiungì 60 all'ora, 101 a monoposto, velocità che si raddoppia sui 5 secondi sia per la vettura da gara che per quella di serie, evidenziando un'impressionante differenza di prestazioni, grip e tenuta laterale che solo le gomme studiate per le gare sono capaci di produrre.